A 23 anni non sai come ti ritrovi in certe situazioni. Ti ci ritrovi e basta. Bibi forse aveva bisogno di dimostrare qualcosa più ad una ragazza che a se stesso. Sei sicuro fosse qui? Ricce, quello di cui ha bisogno, non l'ha capito neanche adesso che ha 50 anni. E non lo so, è tutto uguale qua. E io, quello che sarebbe successo durante quel viaggio non lo potevo immaginare. Che poi forse era proprio quello che cercavo. Ragazzi, secondo me non è questo il punto. Se non lo siete che guidavi. Ragazzi? Oh merda! Stai comodo, Bibi? Sì, grazie. Non ti fermare. Nicola, hai già fatto una perquisizione. No, no, aspetta! Abbiamo messo nella merda una famiglia. Ma io, Tom, non sono da qui. Capite portarle via? Te lo immaginavi così?